Ragazzi buongiorno, oggi vi mostrerò come preparare un buonissimo antipasto con i cosiddetti gamberetti di scogliera. Sono quei piccoli gamberetti trasparenti, chiamati anche gamberetti di porto perché sono anche molto diffusi nei porti, che noi pescatori conosciamo bene perché sono appunto un'esca validissima per insidiare alcune specie di pesci come la spigola, il sarago eccetera. Stupirete sicuramente con il loro sapore e con la loro bontà i vostri invitati o i vostri familiari. Basterà un pugnetto a testa di questi crostacei per fare deliziare appunto i nostri palati. Ora andremo subito in scogliera. Ci vuole un mare calmissimo ragazzi perché ovviamente bisogna vederli e bisogna appunto che essi escano col mare calmo, non li troverete facilmente col mare agitato. Li prenderemo con un semplice retino e una semplice fresca. Vi farò vedere come insidiarli e poi farò vedere come cucinarli e come prepararli appunto all'antipasto a casa. Andiamo in scogliare dai ragazzi. Eccoci qui. Abbiamo appena messo il nostro piccolo retino in acqua. Questo è un retino che abbiamo comprato in un negozio proprio di giocattoli per bambini. Due euro mi è costato e come vedete si stanno avvicinando i primi gamberetti. Guardate. Eccoli lì. Abbiamo messo dentro un'alice, un'acciuga. Vi consiglio di usare la sarda perché la sarda ha molti più umori, ha molto più olio e attirerà meglio i nostri gamberetti. Io ho trovato questa. Ho messo questo, va bene anche questa. È un'esca che attira comunque i nostri gamberi lo stesso. Come vedete stanno cominciando ad entrare i primi gamberetti. Ci sono anche dei bei granchi felloni che stanno arrivando a pizzicare il retino. Ora vi faccio vedere come li prendiamo. Abbiamo levato il retino all'acqua. E qua, come vedete, ci sono i nostri gamberetti che vanno saltando che erano entrati dentro il retino. Eccoci qua. Questo è il Palamon elegans o gamberetto appunto di scogliero. Ora andremo a raccogliere un po' e poi vi farò vedere appunto come cucinare. Nella zona lagunare di Venezia se ne trova un'altra specie che si chiama Palamon aspersus. Comunque molto simile a questo. È solamente un po' più grande. Lì sono una specialità, le chiamano schille o e-skill. Le fanno appunto fritte, proprio come le faremo noi. Per prenderle potremmo anche avere un po' di fortuna e provare proprio a strisciare così sulle alghe, dopo averli richiamati con un pochettino di sarda. E sicuramente se strisceremo il nostro retino sulle alghe così, dentro, come vedete, troveremo altri gamberetti. Spesso ci sono molti video su internet dove spesso fanno vedere appunto come prenderli con delle nasse o comunque strisciando appunto il semplice retino sulle pareti dei porti. È un gambero che ha prevalentemente un'abitudine notturna, ma comunque si può insidiare appunto anche di giorno, come vi sto facendo vedere io. Quelli più piccoli ovviamente li rilasceremo, otterremo solo quelli più grandi. Abbiamo pescato un paio d'orette. Sinceramente non ce la faccio più. Oggi c'è un caldo terribile a Palermo, ci saranno una quarantina di gradi. C'è solo un leggerissimo venticello che ogni tanto ci ha aiutato a pescare questi gamberetti tra gli scogli. Ho portato pure la maschera, ho fatto un paio di bagni per rinfrescarmi, ma sinceramente dopo che esci dall'acqua, dopo una decina di minuti, dovresti rinuovare o rituffarti in acqua. Non ce la faccio più ragazzi. Troppa stanchezza, troppo caldo. Comunque ne ho preso una porzioncina. Ora vi farò vedere a casa come prepararli. Abbiamo preso pure un po' di granchi con cui faremo due spaghetti. Ragazzi non potete capire il caldo. Abbiamo messo l'aria condizionata in macchina per fortuna. Torniamo a casa dai. Ecco il nostro gambolo di scogliera messo al piattino che andremo a preparare stasera. Una spolverata di farina, anche un cucchiaino, basta. Ora andremo a mescolare la farina. Ecco questi gambetti sono belli infarinati. Questi devono buttare per pochissimi secondi nell'olio bollente. E poi andiamo a mangiare con tutto il carapace. Anzi questi ovviamente li faremo come antipasto. Poi ho fatto questa meraviglia che nei miei video la conoscete già. Ecco il nostro bollente. Mettiamo i gambetti. Ragazzi già sono quasi pronti. Scusate se faccio sempre il video con una sola mano. Perché con l'altra prendo il cellulare e viene maluccio. A questo punto sto già a spegnere. Ho visto i secondi e li scegliamo. Eccoli qui. Facciamo scolare nella carta. Adesso andiamo a mangiare. Una spolveratina di sale. Ragazzi spettacolari ragazzi. Uno tira l'altro. Un abbraccio a tutti. Ciao a tutti. Come sono? Buoni. Queste sono le mie due perle.